Musica Dalla Puglia al Giappone il jazz di Livio Minafra, tour in otto città che si conclude domani in un tempio scintoista. Siamo alla musica, le sonorità del pianista pugliese Livio Minafra conquistano il son Levante, domani il musicista conclude la sua tournée in Giappone in servizio di Vito Marinelli. La tappa più suggestiva sarà quella conclusiva di domani, 22 novembre, nel tempio scintoista Koshoji di Nagoya, la città che ospita l'Università Imperiale del Son Levante. Ambientazione tanto suggestiva quanto ideale per le partiture di Livio Minafra, il compositore e pianista originario di Ruvo di Puglia, da venerdì scorso in Giappone per una tournée solista, invitato dall'Istituto Italiano di Cultura di Osaka e promossa con il sostegno di Puglia Sounds. Vincitore per tre volte del prestigioso premio Top Jazz, Minafra Junior, figlio del direttore artistico del Talos Festival Pino, nel suo giro lipponico ha toccato otto città, da Nara ad Okinawa, da Osaka a Kobe. Questa sera sarà al Blue Ice della città sacra di Kyoto e domani appunto concluderà la sua trasferta in Giappone con il concerto di Nagoya. Il programma è una delicata miscellanea di jazz, musica classica, improvvisazioni, ritmi etnici e linguaggi contemporanei. Con lui sul palco per un'improvvisata jam session, anche il batterista Takashi Mori, strumentista dell'accreditata scena jazzistica giapponese, insieme ad altri musicisti del repertorio più tradizionale orientale, formula che ha soddisfatto le aspettative del composto ed esigente pubblico del Fujiamo.